bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyudo ragazzi porca porca ragazzi dai sta succedendo veramente un sacco di roba su fortnite voglio parlarvi in questo video ragazzi di un po' di indizi un po' di teorie riguardanti l'evento di halloween che sta per iniziare il nuovo evento anche che sta per arrivare le modifiche che stanno avvenendo nella mappa e le due nuove skin che stanno per essere proposte a noi giocatori di fortnite mi raccomando ragazzi se siete in hype per la season 6 non vi potete dimenticare di lasciare un bel like e di attivare la campanella se volete ricevere tutte le notifiche tutti gli aggiornamenti su questa season numero 6 incredibile di fortnite ma prima ragazzi vi faccio una domanda secca una cosa che voglio sapere io pinnacoli pendenti o palmetto paradisiaco fatemi sapere qual è il vostro posto preferito per atterrare dal basso della battaglia subito ragazzi quindi di prepotenza a vedere un primo indizio che può sembrare una piccolezza può sembrare una cosa ovvia ma in realtà è importantissima per quello che riguarda questa season per capire determinate cose sto proprio parlando della skin calamity quella che state vedendo in questo momento dove sto giocando siamo sicuri ragazzi che la skin calamity sia solamente una cowgirl ci sono almeno un paio di indizi ragazzi che mi fanno pensare che c'è molto di più dietro la skin di quanto noi crediamo il primo elemento ragazzi è proprio la descrizione stessa della skin che dice da allevatrice a vendicatrice quindi ragazzi un vendicatore un punitore in poche parole qualcuno che ha una missione da compiere che deve fare qualcosa e tra l'altro ragazzi se andiamo anche a vedere le sfide dedicate proprio a calamity oltre agli outfit che possiamo sbloccare e che non la fanno proprio somigliare a una cowgirl più si va avanti il piccone ragazzi il piccone è importantissimo come vedete nella sua sommità dove dovrebbe esserci una lama c'è invece un paletto appuntito forse molti di voi non lo sanno ma ragazzi nella storia del mondo nella storia millenaria nel folklore che ci può essere in qualsiasi paese un paletto appuntito serve ad uccidere i vampiri ragazzi quindi sappiamo ragazzi che molto probabilmente arriveranno nel nostro fortnite i vampiri andiamo avanti ragazzi parlando di alcune modifiche che si stanno cominciando a mostrare nella mappa e che sono davvero davvero interessanti e particolari allo stesso momento bisogna dirigersi a palmetto paradisiaco per vederne una proprio nelle case in fondo dove sta proprio per finire la grande città se andiamo a vedere ragazzi vicino a questi cespugli guardate sono spuntate delle ragnatele può sembrare una stupidata ragazzi ma non mai mai prendere sotto gamba una cosa che epic games ci propone queste ragazzi non sembrano ragnatele decorative come quelle ad esempio che si stanno cominciando a vedere ad esempio al boschetto bisunto queste ragazzi sono delle ragnatele tirate da un ragno gigante e tra l'altro ragazzi abbiamo visto anche che c'è una casa là nel boschetto che ha proprio come decorazione un ragno gigante secondo voi ragazzi che cosa ci dobbiamo aspettare in questa season davvero l'arrivo dei ragnozzi dei ragni enormi chi lo sa staremo a vedere ragazzi staremo a vedere anche perché se andiamo avanti ragazzi e ci dirigiamo direttamente a pinnacoli troviamo un'altra modifica iniziano a cambiare le cose anche a pinnacoli se guardiamo bene appesi ai lampioni ragazzi ci sono dei fantasmi che sono da brivido sono ragazzi questi fantasmi che hanno una doppia faccia rimangono in piedi anche se distruggiamo il lampione questo ci fa capire che anche pinnacoli pendenti ragazzi sarà addobbata a dovere durante l'evento di halloween chi lo sa chi lo sa se magari epic games deciderà di aumentare il tipo di atmosfera nelle city nelle varie location della mappa magari mettendoci della nebbia abbiamo già visto anche le macchine del fumo che ci sono sempre a boschetto bisunto sicuramente ragazzi dovremo aspettarci davvero tantissimo da questo evento di halloween ma andiamo ancora ragazzi facciamo un salto nel battle pass quindi nel pass battaglia che ovviamente ragazzi abbiamo capito è il modo migliore per capire tutto quello che sta succedendo nella determinata season o tutto quello che dovrà succedere voglio ovviamente ragazzi portare alla vostra attenzione lo spray del ragno gigante si torna di nuovo a parlare di ragni ragazzi che cosa significa secondo voi questo ragno gigante secondo voi arrivano davvero come abbiamo già visto le ragnatele come abbiamo visto anche altre cose anche perché se pensiamo a un video che ho fatto è un paio di giorni fa ragazzi vi facevo vedere come nel covo dei cattivi di spiagge snob ci siano delle ragnatele che tengono addirittura sospesi i chest questo vorrebbe davvero dire che non è normale che ci sono dei chest sostenuti dalle ragnatele ragazzi cioè le ragnatele ci possono stare ma non che sostengono degli oggetti secondo me è un altro elemento che ci dà l'indicazione dell'arrivo di ragni ragni ragazzi ragni giganti che potrebbero magari addirittura sfruttare il covo dei cattivi come loro covo insomma ragazzi staremo a vedere questi benedetti ragni se arriveranno oppure no ve lo ricordo ancora ragazzi mi raccomando se trovate interessanti questi video un bel like che non costa niente e attivate la campanella ragazzi per rimanere sempre aggiornati su tutte le news di fortnite voglio parlare ancora del battle pass ma ragazzi di alcune skin molto molto particolari che apparentemente sono delle skin presenti ma che potrebbero davvero essere collegate tra di loro e creare stando sempre in tema di ragni la tela della trama della stagione numero 6 le skin di cui sto parlando ragazzi sono la skin della fiaba la skin tramonto e ovviamente la skin manni la skin manni ragazzi è ovvio è un ragazzo che ha la possibilità di trasformarsi in un lupo mannaro è palese e cristallino lo si vede proprio dalla possibilità di sbloccare gli outfit bisogna capire se però questo lupo mannaro è buono o è cattivo non lo so ragazzi e ovviamente la seconda skin di cui vi parlo che è la skin del tramonto è palesemente una vampira ragazzi lo vediamo dal colore della pelle dal vestito lo si capisce anche perché dopo il tramonto escono i vampiri e tra l'altro come sappiamo se non lo sapete ve lo dico io da sempre nei film nei libri nelle fiabe dappertutto c'è la guerra la rivalità estrema tra lupi mannari e vampiri quindi sicuramente queste due skin avranno modo di dar luce a qualcosa che ancora non abbiamo capito bisogna invece ragazzi fare un punto abbastanza particolare su quello che riguarda la skin della fiaba perché ragazzi è molto curioso come abbiano deciso di riproporre la versione di cappucciato rosso in maniera molto più cattiva diciamo questa cappucciato rosso sembra proprio che sia lei e vediamo anche infatti dal trailer della season 6 a dare la caccia al lupo mannaro ma non capiamo neanche in questo caso se la skin è dalla parte dei buoni o è dalla parte dei cattivi di certo ragazzi avrà a che fare con quello che sia nella season 6 anche perché abbiamo visto ragazzi l'arrivo anche di tre case quella di metallo quella di legno e quella di pietra create proprio nella mappa credo probabilmente per dare ancora un po più di forza alla fiaba dei tre porcellini ragazzi che cacchio c'entra con cappucciato rosso i tre porcellini non lo so il lupo il lupo con i tre porcellini che cavolo stavo dicendo comunque ragazzi staremo a vedere che cacchio farà questa skin di cappucciato rosso ma arriviamo ragazzi mi sono i deficienti arriviamo ragazzi però alle due skin che invece stanno per arrivare che arriveranno prestissimo su fortnite e ragazzi è proprio epic games che ce le fa vedere sapete dove? bravi ragazzi nella schermata di caricamento della prima settimana di questa season 6 se andiamo a notare bene se guardiamo bene la schermata oltre alla stella segreta che è sopra il trattore ci sono due skin mai viste prima né in battle royale né in save the world e sono le skin degli spaventapasseri ragazzi saranno probabilmente quasi certamente le due skin che saranno acquistabili nell'evento di Halloween e come vedete ragazzi c'è il primo spaventapasseri che è la versione maschile quindi occhi gialli dei vestiti rattoppati insomma un classico spaventapasseri e anche la skin femminile un po' più indietro quindi non si vede tanto bene ma notiamo che è comunque la controparte femminile dello spaventapasseri la cosa che mi è caduta all'occhio è che queste skin non hanno il backpack e secondo me ragazzi è un'altra cosa fatta apposta da epic games perché probabilmente con le sfide dello speciale di Halloween si potrà sbloccare il backpack e secondo voi ragazzi quale sarà il backpack io vi lancio la mia potrebbe essere un backpack che ha dietro di sé un nuovo pezzo e potrebbe essere il corvo non sarebbe assolutamente sbagliato associare il corvo agli spaventapasseri ma chiudiamo ragazzi con l'ultima cosa veramente veramente assurda che hanno inserito in fortnite e per trovarla dobbiamo andare al bosco blaterante ma non al bunker come siamo abituati a vedere bensì nelle case nuove quelle che sono spuntate appunto con l'arrivo della nuova season se andiamo in questa casa ragazzi e guardiamo sotto nello scantinato nell'angolo c'è un orso di pezza seduto su uno sgabello al contrario attaccato al soffitto un altro elemento che ci fa capire quanto sia imminente l'evento di Halloween beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video spero che vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su ma soprattutto iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella noi ci vediamo in live ciao ciao